Poi gli fanno sempre le domande che o la colpa è degli altri, oppure gli fanno gli assist per arrivare alla risposta che lui vuole. Semplice. Ti devi dire cosa fai per migliorare. La risposta sai quale può essere? Che cosa faccio? Niente. Non fa niente. Lele, non ci sono alternative. Al Milan, ripeto, io parlo in prima persona. Noi, attaccanti, arriviamo a un certo punto, mettevamo Abate da un lato con Zambrotta e Jan Kuloski con Antonin dall'altro. Crossate, ci calciavamo al volo. Finito. Ok, Lele? Finito. E chi viene a dirmi il contrario? Benissimo. Questo, semplice, il venerdì. 10-15 minuti con Mauro Tassotti. Giochiamo 4-3-1-2. Perfetto. Fine? Fine del 4-3-1-2. Giochiamo, giocatticcio, calciabroni. Il sabato si provavano questi cross che noi lo facevamo da soli. Basta. O i vigori, che si provava a fare le sfide tra di noi. Niente. Alternativi non ce ne sono. Vlaovic, che è un animale, come hai detto te, che vuole apprendere e imparare, che è una spugna, servirebbe un allenatore che ti fa un culo così, dienza della situazione, che ti dice devi lavorare ancora di più di quanto tu vuoi lavorare per migliorare. E lavori. Calci 20 volti col destro, col sinistro, contro il movimento, palla a sfilare, con la trapunta, lavorare. Niente. Non li fai. Non li fai, Lele. E le chiacchi le portami a vedere. Quando tu li hai fatti, cosa fatti? Hai tolto il microfono. Perfetto. E continueranno a parlare gli altri e gli diranno la domanda che lui vuole, o quello che lui vorrebbe, oppure delle smorzie che uno in panchina si gratta ai coglioni. Allora mi voglio grattare ai coglioni. Sto mancando rispetto a qualcuno. Blauvi ci ha mancato di rispetto a qualcuno. No. Non ha detto niente. È deluso, può dare della sua prestazione. La risposta qual è? Eh, ma sai, ha fatto una buona partita tecnicamente. E tu continui, caro Lele, a dire del tempo. Va bene? C'è dire del tempo. Grazie a tutti.